Dopo gli ultimi grandi rastrellamenti del marzo, culminati nella battaglia di Cisterne e Santo Stefano Roero dal 6 all'8 di marzo, in quella torna Costigliole tra il 26 e il 28 del mese, in aprile fascisti e tedeschi predispongono i piani di ritirata, mentre il movimento partigiano elabora quelli per l'insurrezione finale. Esponenti del CLN provinciale e alcuni comandanti partigiani incontrano la missione alleata del Maggiore Alexander Hope prima a Cisterna e quindi a Castino per definire il piano operativo di occupazione di Astin. I comandi partigiani premono per accelerare i tempi, mentre Hope insiste perché l'entrata in città dei resistenti avvenga solo in concomitanza con l'arrivo delle truppe alleate. Ma dal punto di vista dei partigiani del CLN, il fatto che la città venga liberata dalle forze della resistenza ha un grande valore simbolico, politico, perché deve sancire in modo chiaro e definitivo la rottura con il fascismo e i suoi assetti sia istituzionali che politici. Alla fine Hope acconsente a che siano i partigiani i protagonisti della liberazione di Astin, ma contestualmente nega ulteriori rifornimenti da destinare alle squadre di azione patriottica che dovrebbero favorire dall'interno della città al successo dell'occupazione. In sostanza gli alleati accettano quindi alla fine l'idea di una insurrezione partigiana liberatrice, come avevano dovuto accettare nell'estate precedente quella della trasformazione delle bande partigiane in un movimento armato di massa. Si pongono però il problema del loro controllo, che deve essere un controllo sia militare che politico. È una discussione aperta fin dall'inverno precedente, quando il maggiore Hugh Ballard, incontrando Nanni Latilla, comandante della sesta divisione Garibaldi, aveva affermato in modo perentorio che nel periodo dell'interregno tra l'evacuazione tedesca e l'occupazione alleata sarebbe stata necessaria da parte del movimento partigiano una grande disciplina. Intanto i partigiani hanno provato a riconquistare Alba il 15 di aprile. L'hanno fatto con l'appoggio di una squadra di commando sparacodutati nelle langhe agli ordini del capitano MacDonald. La città viene temporaneamente occupata, ma nel tardo pomeriggio i partigiani sono costretti a rientrare sulle colline. Due giorni dopo reparti fascisti tentano un'ultima puntata contro l'Altalanga, ma oramai le sorti anche militari della guerra sono segnate. Il 21 e il 22 aprile i partigiani attaccano e catturano i presidi fascisti di Dogliani e Murazzano. La situazione è grave, si susseguono duri attacchi e contrattacchi su tutto il territorio piemontese, in una lotta che diventa senza quartiere. Il 19 aprile, a ridosso della collina torinese, i partigiani attaccano in forza i chieri. Nel primo pomeriggio riescono a catturare il presidio fascista della città. I militi vengono interrogati, si raccolgono testimonianze e denunce a loro carico tra gli abitanti di Chieri e il giorno successivo dieci militi vengono condannati a morte e fucilati a Vallunga di Piea. Lo stesso giorno, più a sud, nell'Altalanga, uomini del terzo reparto esplorante della divisione fascista San Marco, uccidono 32 partigiani della divisione autonoma Fumagalli tra Monesiglio e Castelletto Uzzone. Intanto da Asti il Servizio Informazioni Partigiano continua a trasmettere ai comandi irregolari rapporti sulla forza dei vari presidi fascisti e tedeschi. Su ogni variazione numerica ne analizza la composizione, l'armamento, la dislocazione. E i partigiani testano l'efficienza fascista con continui attacchi ai posti di blocco che controllano gli accessi al capoluogo. È del 15 aprile la diffusione ai comandi partigiani del circondario di Asti il piano operativo per la liberazione della città. Dall'interno le squadre di azione patriottica devono occupare e difendere gli impianti industriali, gli edifici pubblici, le linee stradali e ferroviarie, mentre dall'esterno i partigiani devono attaccare i posti di blocco, presidiarli contro un eventuale contrattacco fascista e da qui penetrare in città ed occuparla. Il piano prevede anche l'organizzazione della fase successiva, con la suddivisione della città in quattro diversi settori, affidato ciascuno ad una formazione partigiana, per agevolare il CLN nell'assunzione dei poteri, per assicurare l'ordine pubblico dando alla popolazione la dimostrazione di una maturità politica e di un senso di responsabilità delle forze antifasciste. Viene anche disposto l'immediato insediamento di un tribunale di guerra composto da un Presidente, un Pubblico Ministero e da quattro giudici. Riprende intanto anche la mobilitazione interna alle fabbriche. Gli operai richiedono il pagamento di una gratifica, una tantum di 6.000 lira a testa e la distribuzione straordinaria di generi alimentari. E il 18 aprile anche il CLN di Asti proclama lo sciopero generale insurrezionale. Pochi giorni dopo, il 23 di aprile, viene predisposto anche il piano per l'occupazione di Nizza Monferrato, che prevede l'attacco al presidio della San Marco, che ha sede presso l'Istituto Tecnico Pellati, e, dopo la conquista della città, la dislocazione di formazioni partigiane lungo le strade di accesso a Nizza per difenderla da eventuali contrattacchi. del resto la progressiva ritirata dei reparti nazisti e fascisti dal Cuneese verso il Piemonte settentrionale sta lasciando una drammatica scia di sangue che coinvolge partigiani e civili. Le fanno le spese le popolazioni di Ormea, Benevagena, Narzone, Caraglio, Genola. Il comando della divisione San Marco lascia carcare ed altare e discende la valle Bormida di Spigno verso Appie Terme, mentre il presidio del Terzo Esplorante abbandona Canelli nel pomeriggio del 23 aprile e raggiunge Nizza. Qui, nella prima mattinata del 24, il reparto del Terzo Esplorante ha sostenuto un intenso scontro a fuoco con i partigiani durante la notte e si ritira dopo aver fucilato presso la stazione due partigiani prigionieri. Le due colonne del Terzo Gruppo Esplorante raggiungono quindi ad Acqui gli altri reparti della divisione. Poco dopo giunge in città Dionigi Massimelli, Nestore, commissario politico dell'ottava divisione Garibaldi che, insieme all'avvocato astigiano Giorgio della Valle, chiedono al generale Farina, comandante in capo della divisione San Marco, la resa dell'unità, una richiesta che viene respinta. Intanto, ad Asti, la sera del 23 aprile, quattro partigiani sono stati fucilati da una squadra della legione Ettore Muti in strada Valmanera, mentre presso le sedi fasciste della Guardia Nazionale Repubblicana e dell'Ufficio Politico Investigativo vengono dati alle fiamme gli archivi per evitare di lasciare dietro di sé documentazione compromettente. I reparti tedeschi, quindi, lasciano d'Asti nel pomeriggio del 24 aprile, seguiti da una colonna di militari e di civili fascisti che hanno svuotato i magazzini e minato le fonderie Main. Il segretario del comune di Asti, Alberto Nosenzo, annota nel proprio diario che le caserme si svuotano, che autocarri e ogni mezzo di trasporto reperito vengono requisiti per i militari e le famiglie che si apprestano a lasciare la città. Verso sera, per le vie cittadine, transitano carretti a mano, biciclette, carichi di materassi, valigie di ogni genere e ogni bene reperito nei magazzini i cittadini. Si dirigono verso Porta Alessandria, dove sono confluiti gli automezzi militari che si preparano a lasciare la città. Da segnalare che nei giorni precedenti il prefetto di Asti, Cesare Carnazzi, ha costretto il direttore della filiale astigiana della Banca d'Italia a consegnargli una cifra consistente, 25 milioni di lire, che vengono distribuiti tra i componenti della colonna fascista in fuga. I primi reparti partigiani entrano in Asti alla sera del 24 aprile. Nella mattina del giorno successivo il CLN si insedia Palazzo Ottolenghi, all'epoca a sede della prefettura, mentre l'aggiunto comunale occupa il municipio. L'accordo tra le forze politiche sulla attribuzione delle diverse cariche è stato raggiunto nelle settimane precedenti, con l'obiettivo di guidare fin da subito la difficile fase di uscita da una guerra che sembra davvero non voler finire. Mentre vengono liberati dalle carceri, detenuti per reati politici, in molte zone del Piemonte si continua a combattere, e numerosi partigiani e astigiani partecipano a questi combattimenti per la liberazione di Acqui, di Alessandria, di Torino. Solo il 26 aprile, infatti, vengono liberate Novara e Vercelli, per Alessandria il giorno della liberazione è il 27 aprile, per Cuneo il 29, mentre a Torino gli ultimi combattimenti per le vie della città si spengono solo il 30 di aprile. Ma la caccia agli ultimi cecchini fascisti nascosti sui tetti prosegue ancora fino ai primi di marcia. La divisione fascista San Marco si è poi arresa il 28 aprile in Lomellina, mentre il 75esimo corpo d'armata tedesco ha firmato la resa a Biella solo il 2 di maggio. In tutta la regione, tra il 26 aprile e il primo maggio, fascisti e tedeschi in ritirata hanno ucciso 273 persone, tra partigiani e civili. Quindi è guerra, ed è guerra totale, fino ai primi di maggio. Intanto i primi reparti di truppe alleate sono entrati in asti il 30 di aprile. Il giorno dopo, il primo maggio, la città ha festeggiato la fine della guerra, una piazza San Secondo piena di gente applaude i discorsi pronunciati dal balcone del municipio, dal presidente del CLN, il liberale Gilberto Barbero, dal prefetto democristiano Enzo Giacchero, comandante partigiano autonomo, dal sindaco comunista Felice Platone e dal commissario politico della nona divisione Garibaldi, Tino Ombra, a nome di tutte le formazioni partigiane. Inizia anche per Asti un difficile dopoguerra, caratterizzato da una parte dalla voglia di lasciarsi alle spalle il conflitto, dalla necessità di avviare rapidamente la ricostruzione, ma anche da alcune esecuzioni sommarie e da fucilazioni di fascisti condannati dal tribunale di guerra partigiana. Solo chi non vuole tenere conto del contesto in cui sono avvenuti questi episodi può pensare che le violenze potessero e dovessero essere fermate di colpo, come spegnendo un interruttore dopo vent'anni di dittatura e cinque interminabili anni di guerra, che hanno seminato lutti, ferite, rancori profondi in tutto il tessuto sociale negli animi del paese. E' stato un cammino difficile questo verso la democrazia, intrapreso dopo vent'anni di dittatura e venti mesi di una guerra civile in cui le razzie dei rastrellamenti nazifascisti, gli arresti, le torture, le deportazioni, l'incendio per rappresaglia delle cascine, l'esposizione pubblica dei cadaveri, dei partigiani e dei civili fucilati o impiccati, hanno rappresentato una crudele prassi quotidiana. Un'uscita dalla guerra che per questo sarà lenta è difficile ma che porterà alla libertà e alla democrazia.